ok ragazzi allora dopo questa breve cosa in francese ritorniamo comunque italiani perché lo siamo e quindi viva all'italia oggi parliamo comunque dei funghi i funghi sono buonissimi specialmente questa qualità di funghi che io vi faccio vedere che vi ho fatto vedere prima però comunque adesso ve lo faccio vedere in diretta perché quando si fa il video non si può girare la telecamera quindi automaticamente bisogna stoppare per poi girare l'immagine oggi parleremo dei funghi parleremo di questi tre qualità di più un funghi che sono le trombette della morta i piedi di montone quindi si chiamano piedi di montone e poi abbiamo il giro però comunque hanno tantissimi altri nomi in qualsiasi altra parte comunque li troverete sono tre qualità di funghi abbastanza costose quindi adesso ne parliamo come cuocerli come conservarli come pulirli e le loro qualità a quello che servono però nel frattempo che noi parliamo e quindi che andiamo a vedere queste tre qualità di funghi adesso andiamo a mettere l'acqua proprio per cucinare una di queste qualità di funghi allora parliamo innanzitutto della qualità dei funghi allora le trompette della morte piedi di montone e le girò un attimo solo allora parliamo subito delle trompette della morte non sono belli come funghi come appunto voi vedete sono dei punti di colore scuro l'unica cosa che hanno di bello hanno due cose belle la prima è che sono dei funghi neri che quando le andate a cucinare diventano nero lucido quindi quando dovete fare una decorazione con dei funghi del genere sono veramente bellissimi quando vengono cucinati per quando riguarda la cottura di questo fungo un po come lo champignon bianco quindi si cuoce direttamente in un po d'olio e di burro senza aggiungere aglio senza aggiungere niente magari solo un po di vino bianco perché perché hanno un sapore che fortissimo ed è delicato nello stesso tempo però il fatto di avere questo fungo e che voi nel nella nel risotto nella pasta voi avrete il 100 per cento del gusto del fungo che voi conoscete quindi fungo normale con questo fungo normalmente vengono utilizzati questi funghi a 50 per cento 30 per cento quando sono in melange con gli altri funghi perché proprio è il loro sapore che è molto forte che copre tutti gli altri funghi fare una tagliatella con questi funghi veramente sarà un'opera d'arte veramente sarà buonissimo questi sono dei funghi veramente molto buoni e anche costosi parliamo poi dopo vi faccio vedere come si puliscono parliamo dei piedi di montone i piedi di montone hanno diciamo una forma di un piede di montone come si puliscono e che cosa servono questi funghi questi funghi non hanno un gran sapore però normalmente vengono impiegati nella cucina e principalmente alle le case che producono salse e crema e funghi perché è una qualità di funghi che cotta in acqua diventa gelatina diventa una gelatina e funghi però comunque come gusto non ha assolutamente un gran gusto quindi viene sempre allungata quando fate queste gelatine viene tende allungata con altre qualità di funghi perché solo lei praticamente non ha un gusto forte quindi quando mangiare un risotto quando mangiato una tagliatella non avrete questo gusto proprio bello del fungo è buono però non ha questa questa forza del fungo per evitare di farlo diventare gelatina la cottura deve essere fatta direttamente in padella quindi una cottura in cui permette alla parte esterna del fungo di caramellizzarsi e quindi la parte interna rimane gelatinosa quindi perciò è un fungo che va usato principalmente per arricchire il piatto quindi per mettere più quantità di funghi però alla fine se cucinate solo questi funghi vi garantisco che non troverete nessun tipo di soddisfazione di funghi quindi quando fate questo tipo di funghi fate sempre un melange con altri funghi perché altrimenti perdete il loro gusto abbiamo qui le girolle le girolle perché ho parlato prima di mettere l'acqua perché le girolle che sono dei funghi molto costosi hanno più o meno nella bocca un effetto agrumato diciamo che è un fungo che non serve per fare i risotti questo qua è un fungo che serve per mettere sulle carni come accompagnamento sulle carni sui pesci quindi è un fungo che resiste alle cotture infatti la cottura di questo fungo rispetto alle altre è veramente elevata qui andiamo a parlare di una ventina di minuti come minimo in acqua bollente perciò ho messo l'acqua a sul fuoco perché nel frattempo che le pulisco l'acqua già va in ebollizione e quindi automaticamente occorrono una ventina diciamo una quindicina di minuti che devono bollire completamente in acqua perché loro cacciano la loro acqua di vegetazione con molta difficoltà e sono sempre callosi sono sempre al dente perciò vengono impiegati principalmente per fare delle carni diciamo che anche per fare risotti però per il risotto è sempre più consigliabile arricchire con sapori più decisi tipo come questo tipo come porcino perché il porcino diventa anche morbido invece questo qua rimane sempre bello calloso perciò quindi viene principalmente utilizzate per canne e pesce a forno alla griglia e quindi vi fate una bella spadellata anche di questi funghi che comunque costano un sacco di soldi io gli andrò a congelare e farò 32 pacchetti dove metterò praticamente 22 parti due parti dove miscelerò tutte e tre i funghi e li utilizzeremo poi durante l'anno per fare dei risotti quindi facciamo dei risotti per facciamo delle tagliatelle si possono fare veramente tante cose come si puliscono i funghi si lavano in realtà i funghi si dovrebbero lavare perché comunque hanno una quantità di terra elevata anno anno i microrganismi quindi si dovrebbe lavare però la lavata del fungo deve essere assolutamente fatta a regola d'arte il fungo va lavato molto velocemente e va asciugato immediatamente perché perché il fungo come se fosse una spugna composto dal 98 per cento di acqua e l'altro 2 per cento di materia solida e quindi assorbe l'acqua come se fosse una spugna quindi se questo servizio si fa rapido allora voi ottenete un buon risultato se invece siete lenti allora nascerebbe un problema perché i funghi si riempiono d'acqua e perdono completamente tutto il loro sapore questo vale per tutti i tipi di funghi ora per quanto riguarda la pulizia questa è una cosa molto importante che voglio fare vedere perché non evitare che compinate dei guai allora per quanto riguarda la pulizia in tutte e tre casi va utilizzato un cortellino e va utilizzato anche un pennello il pennello al limite da lucina il pennello servirà per togliere tutto la sabbia e terreno per tutto e togliere principalmente il terreno che è presente il cortellino serve per togliere le impurità in questo caso qui come si fa si taglia una poco di base così si divide in due e con lo spazzolino o con un pennellino si puliscono e quindi è finita l'operazione per quando riguarda qua siccome sono le funghi che ossidano subito un po come la patata però voi la patata per evitare di farlo ossidare cosa fate la tagliate la mettete in acqua in questo caso qua non lo potete fare quindi i funghi in questo caso qua vanno estremamente puliti con un pennello o un panno umido meglio un pennello perché in questo caso qua sono piccoli e quindi un panno umido potrebbe portare dei problemi poi si tagliano al momento che vengono messi in padella per evitare che l'ossidazione li fa diventare arancioni poi abbiamo invece leggerò lo stesso discorso vale per leggerò si tagliano qui alla base su sto un poco si tagliano in due e si puliscono da tutti i lati in questo caso qui vanno bolliti in acqua per 15 minuti e dopo di che poi li potete usufruire per fare una qualsiasi cosa che voi volete una padellata di funghi anche un risotto però comunque se andate a mettere solo questi per fare un risotto non otterrete lo stesso lo stesso aroma la stessa consistenza la stessa la stessa forza del fungo porcino oppure di questi funghi della morte quindi diciamo che un fungo che io consiglierei principalmente per gustarselo è o fare una padellata di funghi in generale oppure di utilizzarli semplicemente accompagnati poi alla canna e pesce perché voi per esempio per quando riguarda la canna e pesce una volta che voi l'avete cotti i funghi li potete mettere anche 10 minuti 15 minuti prima della cottura della carne magari in forno perché sono dei funghi che resistono alle altissime temperature e che rimangono sempre al dente quindi potete potete sbizzarrivi con la temperatura qui quindi non avrete assolutamente nessun tipo di problema di temperatura noi le andremo a cuocere in modo diverso tutte e tre e le andremo poi ad unire per metterli nei sacchi sottovuoto e quindi conservarli poi durante l'anno ce le andiamo a mangiare quindi a più tardi vi faccio vedere i funghi finiti e la preparazione di ogni fungo vi faccio vedere i funghi finiti e vi faccio vedere i funghi finiti e vi faccio vedere i funghi finiti grazie a tutti